Palio di Siena, la Madonna costretta a posare per lo sceno Manara. Il drappellone del Palio di Siena sarà disegnato da Milo Manara, noto per le immagini erotiche, alcune anche sacrileghe e offensive per la religione cattolica, di Gianni Lupi. Il drappellone del Palio di Siena di agosto 2019 è stato commissionato a Milo Manara, secondo la consuetudine, che vede alternarsi a luglio artisti locali e ad agosto autori di fama internazionale. Non c'è ovviamente ancora nessun bozzetto, nessuna notizia, ma ci sembra doveroso spendere qualche parola su questa scelta. Come mai parlare di un'opera che ancora non è stata dipinta? Il Palio di Siena viene corso nelle due edizioni annuali per celebrare il legame lunghissimo tra la città e la sua protettrice, la Madonna, celebrata dagli statuti medievali come la regina di Siena. La madre di Dio campeggiava nelle monete medievali battute dallo Stato senese con l'iscrizione Sena Vetus Civitas Virginis, antica Siena, città della Vergine. È sempre sua immagine nei sigili della Repubblica apposti su ogni documento. La Madonna col bambino, accompagnata dalle parole conservi la Vergine l'antica Siena, che lei stessa rende bella. Milo Manara offende le origini cristiane del Palio. Il culto antichissimo fu celebrato con la costruzione della cattedrale, ma la stessa identità del comune cittadino era indissolubilmente legato alla Vergine, cui più di una volta furono date le chiavi della città in atto di affidamento totale, che veniva rinnovato annualmente con l'offerta dei ceri da parte del comune e anche delle terre sottomesse. Le carriere del Palio e la festa che vi ruota intorno sono infatti per Siena la testimonianza e la continuazione di un'identità importante e ancora viva. Ben lontana da una rievocazione ad uso dei turisti, incarna e rinnova una storia e una devozione che si perdono nelle origini stesse della città. È lecito chiedersi se la scelta di affidare la realizzazione del Palio di Agosto a Milo Manara sia coerente con il carattere di omaggio alla Vergine che la città vuol fare con la corsa del Palio. Milo Manara è senza dubbio in grado di dipingere una bellissima Madonna, poiché il talento non gli ha mai fatto difetto, ma è auspicabile legare il nome di una così importante festa mariana al resto della produzione dell'autore? Una rapida ricerca in internet ci rimanda immagini erotiche molto spinte ed esplicite, insite e audaci che nulla lasciano all'immaginazione e purtroppo ce ne sono anche di offensive per la religione, irriverenti, oscene e sacriliche. Posto che tutti si augurano che il Palio di Agosto sia bellissimo e celebrativo del vero spirito della festa, è Milo Manara il nome giusto attraverso cui omaggiare la grandezza dell'assunzione di Maria in cielo con il suo corpo immacolato? L'autore non sarà tentato di disegnare la madre di Dio in abiti di Scinti come gli usa a disegnare le figure femminili nei suoi disegni? Ma anche nel caso che la sua Madonna fosse disegnata castamente, non evocherà in chi la guarderà le donne seminude di cui l'autore ha invaso l'immaginario collettivo? In passato ci sono stati molti episodi di pali controversi per le scelte figurative operate dall'autore. Per il palio del 2 luglio 2010 fu rappresentata la Madonna con una corona con una croce, la mezzaluna islamica e la stella di David. Come notava Antonio Socci sul libro del 1 luglio 2010, un sincretismo che strizza l'occhio al più banale politically correct, ma che è un pugno nello stomaco per chissà quanti cristiani sono stati massacrati dai turchi all'insegna della mezzaluna e quanti sono oggi perseguitati. Non solo, attorno al volto della Madonna, Ali ha scritto in arabo Sura di Maria, in riferimento alla Sura 19 del Corano, dove ella è celebrata come madre di Gesù, che l'Islam ritiene un profeta, ma nega categoricamente che fosse figlio di Dio, Dio fatto uomo. Per l'Islam questa è la più grande bestemmia. Cosicché abbiamo un'icona che dovrebbe essere cristiana e celebrare la madre di Dio, nella quale invece si celebra la Maria del Corano, in cui è negata la divinità di Gesù, il fondamento del cristianesimo.